bisogna mettere uno sopra e uno sotto qui dopo dovrebbe arrivare vicino ma volete suonare qualcuno? non prego Andrea tiratela piano la grossa piano mi raccomando sennò va via dalle finestre si è pronti? si uno, due, tre, via a 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti.